Cosa ci insegna oggi dai allora questo semplice già questo semplice oggetto sostanzialmente è una normale pizza ora senza fare il prestigiatore ma è quella che è quella che si può utilizzare quindi una pinza d'ufficio per farla trasformarla in un supporto per telefono da automobile quindi cosa accadde si nelle alette quelle che fanno uscire l'aria si pinza si pinza la cosa qua e dopo si si mette un pezzettino di elastico qui si gira qua vedete ed ecco qui che è fatto automaticamente il nostro supporto a prezzi costi bassissimi sia l'elastico un po in mezzo ma insomma se fa da navigatore non hai grossi problemi ma sai che carino è molto utile la voglio provare subito ti fermi in una cartelleria mi puoi prestare la pinza pure l'assimo ma la porto a casa fa male se pinzi troppo